ciao a tutti gli amici edifici di pali italia oggi ti invito a pensare una cosa pensa a svegliarti ogni mattina dal tuo soggiorno e vedere il panorama che c'è alle mie spalle oggi sono in cantiere qui a roncegno in trentino e sono venuto a fare il sottoluogo per direzione dei lavori e voglio mostrati da dove siamo partiti oggi abbiamo iniziato con la posa del vetro cellulare ecco lì sotto si tratta di abbiamo messo circa 30 cm di vetro cellulare e sopra verrà posizionata la fondazione a platea della nuova casa di paglia